la rosa dell'istria allora costantino seghi tu sei niccolò e sei il fratello no di maddalena protagonista e innanzitutto partiamo dal personaggio no c'è questo figlio comunque di una famiglia benestante il papà dottore che poi cerca anche un po di seguire le sue orme quindi innanzitutto raccontiamo un po il personaggio allora niccolò è un personaggio coraggioso che ama molto la sua famiglia specialmente sua sorella e diciamo che una caratteristica che mi ha aiutato un po nella costruzione del personaggio è stato proprio questo coraggio questa incoscienza che poi appunto porterà delle serie di dinamiche nel film è un personaggio molto molto di cuore che insomma spererà un giorno di diventare a sua volta un come dire una figura importante all'interno della famiglia di prendersi le sue responsabilità e personaggio di cuore sincero e soprattutto coraggioso che appunto questo coraggio li porterà a fare delle scelte di cui poi si prende responsabilità ecco il film tratta la vicenda degli esoli istriani no che sono stati definiti italiani due volte una per nascita e una per appunto la scelta poi di vivere in italia tu conoscevi questa storia che è stata un po sepolta per per tanti decenni no come la conoscevi come ti sei approcciato ti ha sorpreso che potesse accadere una cosa del genere guarda ero a conoscenza della storia poi tanti dettagli chiaramente li ho colmati andando a documentarmi guardando dei video ci sono delle bellissime interviste su youtube di persone che appunto affermano insomma che raccontano la loro storia di quanto il loro cognome è stato cambiato di quello che hanno dovuto affrontare è stato veramente fondamentale perché veramente si sente è una storia unica nel suo genere c'è anche una bellissima canzone che si chiama magazzino 18 di simone cristicchi che parla anche di questa cosa insomma è stata veramente una bellissima anche lezione di storia che ho avuto e veramente ascoltare l'intervista di quelle persone è stato è stato veramente toccante molto importante per la costruzione poi del personaggio e le vibes della storia ea proposito di ascoltare persone importanti avere avuto un papà come andrea pennacchi che da un personaggio del genere non si può far altro che imparare no guarda io credo di aver imparato tantissimo mi ha riempito di consigli è stato veramente una figura importante non solo per il film ma anche per quella per la mia carriera in generale cioè averlo conosciuto averlo ascoltato è una persona veramente speciale veramente non so non so cos'altro dire perché mi ha riempito di di tantissime cose senza chiedere è stato fondamentale veramente invece parlando del film un altro tema è quello del delle radici no appunto questa famiglia viene presa e sradicata letteralmente da dalla propria casa dal proprio dal proprio territorio tu hai provato a immedesimarti ti sei domandato ma se una cosa del genere fosse accaduta a me cioè di essere preso da più o meno quest'età tra l'altro no certo ed essere completamente ma esiliato perché è un vero e proprio esilio e no da un'altra parte con tutti i tuoi averi messi in una valigetta cioè è una cosa che veramente farà brividire no al solo che è una cosa che che uno almeno sia per quanto mi riguarda può arrivarci soltanto tramite l'immaginazione mi ricordo che appena ho percepito abbiamo letto alcune cose della storia mi sono andato a documentare c'è stata una bella opera di medesimazione perché sono delle robe che ti lasciano veramente dentro qualcosa ti segnano è stato stato tosto però importante quindi sono contento di averlo fatto allora però non è l'unica cosa che tu fai perché insomma abbiamo visto insomma sei molto attivo no in questi mesi quindi raccontaci dove altro ti vedremo ma allora per adesso non ho progetti in cantiere ci sarà una seconda stagione per chi lo sa quanto riguarda eppure cadiamo felici chi lo sa c'è da chiedere al produttore per ora non ci dai news su questo non posso darvi nulla news purtroppo ma perché non lo so semplicemente e invece per chiudere già che abbiamo introdotto eppure cadiamo felici che cosa ti ha detto la gente quando ti ha fermato per strada no magari ragazzi qual è la cosa che ti hanno più chiesto sul tuo personaggio su te eccetera ma è stata una cosa relativamente nuova per me perché chiaramente poi quando vai interpretare un personaggio di una storia già scritta insomma che appartiene già un libro sei un po' anche esposto più del solito perché c'è gente che ha detto no e quel personaggio non era come me lo immaginavo quindi è stato comunque come al solito non c'è sempre e quindi è stato comunque bello e insomma interessante simpatico vedere anche le lezioni del pubblico che potevano essere positive o negative ho ricevuto soddisfazioni ma anche qualche critica ci sta va bene bene ma allora in attesa di scoprire se si farà questa seconda stagione dacci l'appuntamento per la rosa dell'istria ci vediamo il 5 febbraio in prima serata su rayuno per la rosa dell'istria e per chi se lo perde per chi se lo perde lo può recuperare su rayplay quando vuole quindi non potete scappare lo dovete vedere per forza lo dovete vedere per forza grazie e complimenti grazie a voi